Giorni bollenti, i più bollenti dell'anno, secondo gli esperti per la Toscana e ovviamente per l'Italia. Nelle prossime ore, almeno fino al 15 di agosto, la colonnina di Mercurio potrà arrivare fino a 40 gradi, non solo nelle aree interne, ma anche sulla costa. Un cambiamento potrebbe appunto concretizzarsi dopo il ferragosto, ma al momento, dicono gli esperti, fare una previsione è davvero azzardato. Stiamo vivendo un caldo eccezionale, perché siamo comunque sopra media, lo dice la matematica, non lo diciamo noi così per dire. Quindi le temperature sono molto al di sopra della media e continueranno ancora per un po' per tutta la settimana, quindi sono valori abbastanza eccezionali. Quest'anno ci ha salvato che comunque la primavera si è prolungata, l'estate è partita in ritardo, ma come vedete e sentite si sta facendo da padrona e continuerà per ancora molto tempo. Negli ultimi anni ci ho abituato che, insomma, fino all'inizio di ottobre il caldo, se vuole, si fa sentire. Dopodiché avremo un calo delle temperature verso ferragosto, quindi rientreremo nell'estate classica, normale, e continuiamo a dire che comunque queste sono temperature eccezionali, non sono temperature che siamo abituati a vedere in antichità ai nostri nonni, ai nostri genitori. Ecco, appunto, avremo, secondo voi, ora, fare delle previsioni, ovviamente meteo no, ma insomma un autunno comunque caldo? Allora, questo è difficile dirlo. Ci sono esiti atorevoli che mettono comunque le previsioni stagionali. Noi, come Arezzo Meteo, non abbiamo strumenti per poter dare queste previsioni stagionali, assolutamente, però ci sono delle circostanze che ci possono aiutare a capire determinate cose. Quindi la metodologia italiana purtroppo è molto difficile, non è facile come in altri paesi tipo Germania e Francia che hanno meno orografia ad Arlinoia. Qui in Italia, tra Alpi, Appennino, mare vicino, non è facile e banale la previsione. Ecco, però è una passione quella per il meteo che mi pare cresca sempre di più, la chat da quasi mille partecipanti. Sì, e la chat proprio, c'è un numero chiuso, fino a un certo punto possono entrare, e ci dispiace che non siamo padroni, non possiamo aumentare il numero, ma abbiamo molte richieste per entrare nella chat e ancora non possiamo farle entrare. Sicuramente uscirà qualche novità, stiamo pensando ad aprire un canale direttamente, oltre ai siti Facebook, al sito internet, alla pagina Facebook e Instagram che abbiamo, vogliamo fare un canale per poter fare entrare tutte le persone della popolazione e avere quotidianamente delle informazioni a livello meteo.